Sì, pronto. Cosa? Quando? Figlie mie. Vostro padre rischia di non poter più parlare. Né mangiare. Voglio che mi aiuti a farla finita. È un cattivo padre. Ma io lo amo. Avrei voluto averlo come amico. Allora aiutalo. Come un'amica. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera, ma bisognerà andare là. Perfetto. Dove lo faremo? A Berna. Dovrete darmi una dose forte. Dopo il bypass, il cuore di un leone. Sei la mia figlia preferita. Ragazze, sono scioccata. Andrei ci ha spiegato che non può più cambiare idea. Cosa? Certo che può. Papà, guardaci negli occhi. Eri così brutta da bambina. Potremmo scegliere la data. Perché non a marzo? È il mese del mio compleanno. Mamma, perché non hai mai lasciato papà con tutto quello che ti ha fatto passare? Mi fa sentire bene. Ma sei congelata. Però mi sento viva. Ti rendi conto di quello che stiamo facendo per lui? Niente piagnisteri.